Perché eravamo d'accordo che io, per stare da 3 aprile, i ragionamenti politici sugli interessi di qui, già deve cambiare quel caso. Perché non è possibile, è un bilancio che non è sul mezzo della città, che sicuramente è ben catati. Io mi ricordo, male, che è una cosa, che abbiamo parlato di Europa e non lo diceva, che sul via Europa serve 35 milioni da utilizzare la città di Catania. Consiglio Gianni, la invito a non continuare l'intervento fino a quando non c'è il rispetto di quest'Aule dei Consigliere Comunale. Non è possibile, in questo bilancio, dove abbiamo vinto che ci doveva mettere, nel centro di Catania, e non c'è il rividenziato con i fondi del bilancio dell'Emeridio. Perché poi sul bilancio dell'Emeridio non c'è niente, non abbiamo vinto niente. Allora, su questo erano delle decisioni politiche che avevamo accennato il più po' noi dell'Emeridio, noi dell'Emeridio, di mangiare a intravedere dove era possibile e da dire i fondi, i fondi, per tanti detenti con la caratteria della città. Ma nemmeno questo che ha un'attenzione, dove ti affetti, dove le benedidie, lo conosciamo tutti, lo sappiamo tutti, che è il punto più legale di tutte le città, che non ha tintura a Catania, che siamo proprio allo strascio con noi, e non voglio parlare di un bilancio, veramente un mezzo, a dimostrazione che l'ho matata, l'ho visto, e poi, se una storia volete anche un incontro, separatamente, tu non gli importa, per l'incontro, separatamente, a far vedere le sue cità che gli sono i suoi milancio. Venga, noi gli spettano d'ordine, ma più lunghe, per altri, non so. Vedete, io, chiedo, ho ringraziato una persona qua, in alto, che sta facendo servizio utile per la città, l'ha vinto 30 minuti, che vedete, andrò, il ciclo su questa città. Noi non dobbiamo più del ciclo in tavola a discutere l'allenovo, o con qualche cittadino che viene da portare, che può finire, in alcune ore, noi abbiamo una città di circa 100.000 abitanti, della stragrande maggioranza, la mattina mansa da fuori, fuori cattolica, e poi città di circa 100.000 abitanti, non andrò dentro da poter definire le nostre città di politica e troppo di partito, non tendeci a gesto, si fa in modo in questo Consiglio popolare, verità, pubblicato, via internet, d'un chito specifico, dove i cittadini si volano, portano dare un giudizio a chi dà la preferenza e a chi dà la loro. io ricordo che all'inizio di questa pensione c'era una televisione qua, pagata, 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 per fare delle riprese, una televisione che poche persone, oggi, c'è un testo che è creato bene, portuoso, grazie a tutti, e con il spirito di volontariato, e il spirito di servizio per la città, cantando il servizio di conoscenza ai cittadini, di come noi ci aspettiamo di vedere. Io direi, caro ministro, e cari amici, e sai, che noi, a questo signore, dobbiamo riconoscerli e salvare un grande passaggio a tutta la città e a tutti i uomini di questa città, per vedere i cittadini che potrebbero dare la fiducia a chi dà la campo e come la faccio. E allora, io voglio molto che questa venga fatta una distruzione di un pezzo che dice insieme a me. Noi abbiamo pagato la città, che è tutta la me. Oggi c'è tutto la città, che c'è una distruzione di conoscenza, che ha messo per il resto e noi lo dobbiamo fare. E questo ne dobbiamo fare. Allora, il vero è questo. Il mio intervento iniziale è da quello del diritto che era il rapporto con il mio concordato con l'amico. Damai, proviamo a vedere il diritto iniziale. Un'altra volta la maggioranza è di cominciare a parlare della politica e non i rifiuti vertonali o le persone vertonali. Questo non servono a me. Votiamo dai campi, dai cittadini, dipendenti ripetenti, dipendenti. Finiamolo con questi ritori. Abbiamo il coraggio, facciamo il mio apporto tutti quanti e andiamo avanti. Però veramente significa che la fine è lì. E stiamo rimandando di nuovo agli elettori e vediamo agli elettori come si aderteranno e accorgeremo. Grazie. Grazie, consigliere.